benvenuti su canale di shakface io sono sempre seson e oggi vi porto un video informativo per vivi che a partire da oggi 9 luglio fino al 15 di luglio si ritorneranno in cinema days ovvero voi potete andare in cinema per soli 3 euro guardavo l'ultima pellicola uscita nel mese scorso disponibile ancora nelle varie sale italiane e quelle uscite proprio di recente e quelle che usciranno naturalmente tra il 9 e il 15 giuglio a 3 euro quindi offerta veramente imperdibile l'anno scorso c'era il cinema today c'era la prossima solo 2 euro quest'anno 3 euro hanno aumentato un po' di più però comunque 3 euro non so tantissime la fine sono 3 euro quindi è un affare buono se volete andare a vedere poche pellicola vi consiglio Jurassic World il regno distrutto che lo trovate a Corenzara poi vi consiglio obbligo verità ho rotto in un sito un paio di giorni fa adesso fino al giugno adesso in sala se è la prima notte del suddizio mi sono aspettato anche di streaming per sensirlo perché non ho non ho disponibilità da non vedere al momento e comunque non lo vado a vedere al cinema perché non è un film che mi interessa tantissimo e quindi un paio di pericoli interessanti ci sono ripeto la promozione va dal 9 al 15 giuglio e poi l'ultima promozione partirà a settembre più mi ricordo di preciso la data però l'ultima sarà settembre quindi anche settembre potete andare al cinema a 3 euro il che non è tutto male perché comunque diciamo che il cinema per spendere e per 3 euro per me il costo il biglietto di 3 euro per me è una gran cosa comunque fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate qui sotto quali film andate a vedere a 3 euro sì ma se andate a vedere qualcosa ma secondo me sì per 3 euro vi andrete sicuramente è un'offerta da non rifiutare da 9 al 15 luglio iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un bel pollice in su se vi è piaciuto il video e seguitete tutti i social mi raccomando qui tutto la stessa massac face noi seguiamo un prossimo video informativo salve a tutti un basso al mio pubblico ciao